La collezione disegnata per l'Itea si chiama Pensieri Panteschi e parte tutto da un pannello decorativo che è il pannello gadir che vediamo alle mie spalle, ma poi si amplia. Quindi abbiamo anche un tavolo da pranzo, uno sgabello, un altro pannello decorativo ma modulare, dei vasi e un centrotavola che parlano di Pantelleria e di questa meravigliosa isola nel Mediterraneo. Io mi sono immaginata una vista dall'alto, una vista a volo d'uccello, dove ho ricreato una Pantelleria vista dai miei occhi, come un quadro astratto. Il pannello che vediamo alle mie spalle tetti dei damusi tipici di Pantelleria, piuttosto che le vigne tutte puntinate o le onde del mare o i muretti a secco. Ecco, parla un po' di questo e poi si sviluppa in tutta la collezione. Ritroviamo questi segni grafici in tutta la collezione. I materiali sono pietre e marmi ad intarsio. Ci sono anche degli innesti di metalli o applicazioni a foglia di rame. Ho voluto mantenere queste colorazioni molto tenui, però che mi ricordavano comunque il mondo del Mediterraneo, del mare. Principalmente le pietre provengono dalla Sicilia, come la pietra pece o il bianco fenice. Mentre per i vasi abbiamo cercato di utilizzare addirittura gli scarti di produzione, quindi quei rosa, quei colori molto particolari, sono proprio scarti che vengono dalla produzione. La mia collaborazione con il brand nasce nel 2017 e ogni anno, appunto al 2017, creiamo qualcosa insieme. Mi piace molto lavorare con loro perché hanno davvero un occhio intanto al mondo dell'arte e poi alla qualità che è qualcosa di unico, all'attenzione per i dettagli. Veramente è un'azienda con cui lavoro molto bene e sicuramente ci saranno delle nuove, delle novità per il prossimo salone.